Buongiorno, sono Dario Cavalero, il responsabile tecnico della BM2. Oggi vi presento l'ultimo nato in casa BM2, il CH. In applicazioni agricole e geotetniche, esiste la grande necessità di avere un ambiente climatico controllato. Per quanto riguarda il riscaldamento, questo si traduce nell'avere un'aria calda e pulita, prima di inquinanti, quali vapore aqueo, anidride carbonica e ossidio di carbonio. Per questo tipo di applicazione abbiamo sviluppato il modello C-ANCA, un generatore d'aria calda con bottone indiretta, disponibile nelle versioni combustatore gasolio, gas metano e gas propano. Combustione indiretta significa che la macchina è fornita con una camera di combustione chiusa all'interno della quale avviene la combustione. I gas prodotti, anidride carbonica e evapore d'acqua, sono quindi evacuati al di fuori dell'impianto attraverso una canna fumaria e non contaminano l'aria da riscaldare. Vediamo nel dettaglio i tanti vantaggi che rendono questo generatore unico nel suo campo di applicazione. Il C-ANCA è stato appositorialmente progettato e ingegnerizzato per lavorare in applicazioni agricole e geostetiche, ovvero serre, impianti amicoli e subicoli. La scelta di materiali e dei componenti è stata guidata dalla consapevolezza di vorrei creare un generatore d'aria calda in grado di operare in condizioni di lavoro severe e gravute. La carrocciaria è autoportante in accello fincato e varnicciato. La camera di combustione e lo scambatore di calore sono in accello Ineox per resistere all'omidità. Il generatore può essere accortato, può essere sospeso e può essere inforcato da un moletto per consentire una facile installazione. Gli anelli di sospensione sono fissati alla carrocciaria autoportante così da non fornire inutile stress alla camera di combustione. La bruciata dell'aria e la generatore è disponibile con diametro 500 mm e 600 mm per poter meglio adattarsi all'applicazione e dirigente del mercato. Il CH è progettato per utilizzare un bruciatore esterno. Questa scelta permette di poter facilmente cambiare il tipo di combustibile utilizzato semplicemente sostituendo il bruciatore. Il bruciatore è stato appoggiatamente personalizzato da Riello per PM2 così da permettere una facile condizione del tubo snorkel e di assicurare un'ottima qualità della combustione anche in caso di ambienti di lavoro polverosi e con bassi livelli di ossigeno. Il tubo snorkel permette al bruciatore di utilizzare l'aria esterna per la combustione. Questa soluzione comporta due vantaggi principali. La qualità dell'aria all'interno dell'impianto non influenta la qualità o l'efficienza della combustione. Il generatore non abbassa il livello di ossigeno dell'aria nell'impianto durante il funzionamento. La notevole dimensione della camera di combustione e il design innovativo dello scambiatore permettono di ottenere efficienze di combustione superiori al 90%. Posteriormente il CH è fornito con un gruppo motore-ventola ad alta efficienza che fornisce un flusso d'aria superiore al ventilatore ad avvi anche centristi attualmente presenti sull'impianto. Ciò si traduce in una maggiore capacità di distribuzione del calore all'interno dell'impianto. Inoltre, la pressione statica disponibile dall'aria calda generata dal gruppo motore-ventola è in grado di far lavorare il CH con guanne e plastiche fino a 130 metri di lunghezza. Il generatore è fornito di due scatole elettriche. Le scatole elettriche, così come un vettore elettrico, hanno grado di protezione P65, ovvero tali da non compromettere il funzionamento della macchina in ambienti polverosi e umidi. Nella prima scatola troviamo i termometri di ventilazione, libit e overheating, che abbiamo voluto tenere separati dall'elettronica principale, così da facilitarne la manutenzione. Il CH è stato concepito affinché ventilazione e combustione agiscano indipendentemente l'una dall'altra. Questo significa che, all'accensione, quando la camera di combustione è ancora a fretta, il ventilatore perde per evitare di soffiare aria fredda all'interno dell'impianto. La ventilazione parte automaticamente quando la temperatura della camera di combustione raggiunge i 30 gradi centigradi. Se la temperatura dell'aria raggiunge la temperatura superiore ai 90 gradi, il bruciatore si ferma mentre la ventilazione continua a raffreddare la camera. L'indipendenza tra ventilazione e combustione favoriscono quindi l'affreddibilità della macchina, anche in condizioni di lavoro estreme. Al solo scopo di rispondere a normativi di sicurezza vigenti, un terzo termotico ferma alla macchina nel caso in cui la temperatura della camera di combustione dovesse superare i 120 gradi centigradi. Il generatore può funzionare manualmente e automaticamente. Nel secondo caso, la scatola elettrica principale è fornita in un connettore 5 pori che permette alla macchina di essere collegata a un termosito esterno o a un computer climatico esterno. Il generatore CH è disponibile in tre versioni tri-fase, da 100, 135 e 160 kW, di isolo gas 50 o 60 Hz. Per queste maggiori informazioni, vi invitiamo a visionare il nostro sito internet www.bm2.com oppure a contattare il vostro referente bm2. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro. E può essere inforcatto da un muletto per consentire una facile installazione.